Ciao a tutti, sono Nicola aka Baracchinghi e oggi andiamo a guardarci il flop. Abbiamo visto il river, abbiamo visto il turn, il single reset pot e oggi ci guardiamo il flop e andiamo a vedere perché ai micro in realtà il poker è una passeggiata di salute. Perché questo? Perché già i giocatori non sanno giocare e quello è un dato di fatto, ma anche i regular hanno dei leak abbastanza evidenti, spesso non se ne rendono nemmeno conto e anche quando studiano purtroppo per loro vanno a studiare le cose che sono abbastanza evidenti, non vanno a studiare poi però gli aggiustamenti. Ora prendiamoci sempre il nostro K83 che è uno dei board più facili della storia e già qui possiamo capire alcune cose. Ora andiamo con tre scenari, andiamo in ordine. Il primo è quello pseudo ottimale in cui button contro big blind, button beta, il suo terzo pot e abbiamo un raise che ho già aggiustato per 25 esimi, quindi 25, 50, 75, 100% è la tolleranza che ho dato alle varie possibilità, alle varie opzioni strategiche e qua abbiamo un 19,50 di raise, un 39 passa di call eccetera. Ora questo è quello che uno poi dovrebbe andarsi a studiare, no? Per avere una strategia diciamo standard, base sia contro avversari forti sia contro avversari di cui non conosciamo assolutamente le tendenze. Questo lo vorrei un attimo tralasciare però perché non è così importante, cioè questo semplicemente fate uno screen di questa cosa, vi guardate le combo da arresare, da callare, da affoldare e tanti saluti. questo video invece vuole essere una cosa molto breve per mostrarvi come si va a esploitare come si vanno a esploitare alcune tendenze. Per prima di tutto vediamo un po', quando resiamo, quindi check raise da big blind, facciamo conto di essere uno da big blind, il nostro avversario dovrebbe foldare il 38,56, va bene? Resare pochissimo e callare comunque un 55, questo 38 è un valore che non troviamo molto in giro, il field tende a foldare tra il 42 e il 45. Ora andiamo a vedere il nostro check raise esploitativo. Come funziona? Ho alloccato il flop, quindi andiamo a bettare... Button va a bettare sempre il suo terzo potto, ora lasciamo un attimo il nostro raise. Vediamo la sua difesa. Come vedete qua l'ho alloccata al 45%, lasciandogli tra l'altro dentro cose che il field, soprattutto quello dei micro, tende a non difendere comunque. Ho tolto un po' di roba che non esiste sulla faccia della terra nel field, ma per esempio ho lasciato combo ancora come 5-4 suited col backdoor, 6-5 suited col backdoor, tutte cose che sono davvero infoldabili contro un regular che c'è presa quanto dovrebbe. Ho ancora 10-7 suited, 1-7 suited, glielo ho lasciato a metà mentre di solito vengono foldate completamente. Quindi sono di nuovo, come ho detto l'altra volta, stato generoso con il nostro field. Nonostante questo, foldando il 45% andiamo a vedere che il nostro check raise passa da un... quant'era? Passa da un 19,50% a un 94%, quindi praticamente possiamo andare a check resare tutto il range. Quindi già vedete che qui ci sono due modi per muoverci. Il primo è andare a vedere quanto folda check raise da button il nostro avversario, folda su questi spot più del 38,5% come abbiamo visto poco fa, check raise ATC, letteralmente. A livello ancora più esploitativo possiamo al massimo andare a accallare una frequenza con frequenza più alta invece i KX, quindi le top pair e continuare a check resare il resto. Comunque vedete che già in questo in questo modo la nostra strategia diventa facilissima, non c'è veramente niente a cui pensare. Certo è che se voi mi check resate meno di questo 19% c'è un problema perché non soltanto state... cioè non riuscite a difendere quanto dovreste in assoluto, ok? Ma non andate nemmeno ad esploitare poi il field, quindi al massimo si check resa di più, certo non di meno contro il field dei micro.it ma anche sinceramente del 50% e del 100%. A parte alcuni regular su cui chiaramente andrete a prendere nota, ve li segnerete e però almeno questo 19,5% dovrete andarlo a check resare. Quindi come vedete è tutto facile. Certo voi potete dirmi, bello, ma poi cosa faccio al turn quando lui mi calla? Ma mettiamo un turn qualsiasi, un 10 di fiori. Come vedete tutto check. Andiamo a vedere cosa succede su tutti gli altri run out, come vedete andiamo a cercare su praticamente tutti i run out. Questo è abbastanza semplice no? E pensate per esempio su questo TX andiamo a cercare anche una combo come KT. Bene? Perché questo? Perché chiaramente abbiamo così tanto bluffing range che non possiamo andare a bettare, andremo a cercare comunque la maggior parte, la maggior parte del nostro range, a quel punto diventa necessario questo check in range, proteggerlo tra parentesi con con le combo di con le combo di valore. Quindi anche qui il turn diventa in realtà abbastanza facile. Comunque verfoldando al flop contro check res noi andiamo a stampare a stampare soldi. quindi questo è veramente un aggiustamento facile, facile, facile. Ci sono avversari tra l'altro che foldano anche più, eccoci qua, anche più del 45 quindi con loro veramente andiamo, andiamo veramente facili. Dal lato opposto però che succede se invece ci troviamo a fronteggiare un check res del nostro avversario. Anche qui, noi siamo da button questa volta, andiamo a civettare, va bene? Il nostro avversario ci ha creso a 12 che è comunque un paio di punti percentuali più alto della media del field su questi spot e anzi alcuni avversari non resano nemmeno il 10 ma resano l'8, ok? Ci ha creso l'8 chiaramente, siamo sempre qua fuori posizione, stiamo parlando noi da big blind del nostro avversario da button. E' chiaro che comunque andiamo a foldare parecchio ma questo non è un problema e dicevamo noi siamo da button, ci mettiamo il nostro avversario ci resa ma resa soltanto il 12, vedete che noi andiamo a foldare l'80%. Cioè invece del 38 come abbiamo visto prima e quindi è una cosa abbastanza complessa, come detto prima ci sono i 9.6 suited, i 9.7 suited, tutta la roba col backdoor andrebbe resata, roba tipo 9.7 suited senza backdoor eccetera. Andiamo a vedere invece in questa situazione che noi foldiamo praticamente tutto tranne i kx e buona porzione degli 8x, che tra l'altro vengono giocati in raise molto spesso come vedete. Quindi in realtà anche qui diventa tutto super semplice, abbiamo scibettato il nostro jack t suited, magari col backdoor non sappiamo se difenderlo o no, sappiamo che a livello ottimale dovremmo difenderlo come vedete qua, ma contro un field che ci ha creso il 12, che a noi sembra tanto ma in realtà non lo è assolutamente, siamo incentivati a foldare senza alcun problema. Quindi io concludo qui perché questa cosa è veramente soltanto uno spunto per farvi iniziare a ragionare su come e variazioni delle frequenze di pochi punti percentuali, ok, e possano portare a grandissimi cambiamenti nella strategia che non è lineare, ma come ve l'ho sempre detto anche nelle lezioni precedenti, sposta il valore atteso di un'opzione strategica come il raise o il fold, nel caso di sinistra, nel caso di destra, e sposta il peso di questa opzione strategica ad essere chiaramente a valore atteso positivo rispetto invece alle alternative. Quindi ai micro perché è facile? Perché non c'è tanto da stare a pensare, ok? Check raise nel 10, foldiamo praticamente tutto, chi se ne frega, ok? Folda nel 45 check raise, gli check raiseiamo esattamente tutto, chi se ne frega, cioè il cervello dobbiamo iniziare ad attivarlo laddove troviamo avversari che invece, avendo studiato, hanno frequenze, non dico perfette, ma vicino al perfette, e a quel punto dobbiamo iniziare ad applicare quello che studiamo nello pseudo ottimale, quindi questa situazione qua, diciamo, questa qua, eccetera. Capita benissimo che questo in una sessione, che ne so, di mille mani giornaliere potrà capitare due volte contro quei due o tre reg in grado del livello se succede. Contro tutti gli altri non c'è da pensare assolutamente a niente. È chiaro che, per poter automatizzare deviazioni di questo tipo, dobbiamo conoscere, almeno a grandi linee, le frequenze pseudo ottimali, altrimenti non abbiamo idea di quando deviare. Perché se noi pensiamo che il 45 default ai check raise sia poco su questi spot, siamo portati a quel punto a stringere il nostro check raise in range, a portarlo al 12, magari, come fanno i nostri avversari, e chiaramente questo non va assolutamente bene. Quindi, il mio consiglio è andarsi a studiare le frequenze di base, capire anche a grandi linee, anche sbagliando di qualche punto percentuale di cosa si sta parlando, e poi andare a deviare. Capite bene che se il nostro avversario non ci check raise al 19, noi a livello esploitativo non soltanto possiamo foldare tutta questa roba qua, ma probabilmente possiamo foldare anche di più. Non c'è cresa al 12, c'è cresa al 10, possiamo iniziare a foldargli per dire buona parte dei 3x. Ok? Quindi il poker, ricordate che tranne che contro gli avversari bravi, veramente bravi, è un gioco elementare. È un gioco che si basa soltanto sulle deviazioni che vengono usate sempre oppure mai. Detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.